Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Luke, ho appena finito di registrare lo scorso video, che se non avete visto, mi raccomando, guardatelo, perché come state vedendo ovviamente sullo schermo è uscito cooler. È uscito in una maniera... non strana, però diciamo che c'era abbastanza speranza in quella multi e fortunatamente è stata ripagata. Oggi lanciamo 200 stone nel banner di Goku, sperando che vada bene. Unità, non so, come al solito. Chi è forte, ma sempre dell'unità nuova, perché è un'unità abbastanza vecchia, so che sicuramente il Goku è forte. Loro due io non so se siano forti, lui non l'avevo mai visto prima di oggi, lui so che è forte, lui lo usava una volta, è una macchina da difesa. Lui è un po' vecchiotto, lui è anche un po' vecchiotto, e poi abbiamo sto cooler qua che non so che cosa faccia, tauser, vabbè, varie cose. Direi di cominciare prima di tutto, sigla, e proprio partiamo con la prima multi a bomba. Animazione che non promette bene, però ci dice un no worry deck, quindi ci fa sperare, andiamo. Ok, Super Saiyan 2 è molto nel chill. Vegeta Goku Babidi Krillin Frost Paragas E per l'appunto, parlando di tauser, abbiamo trovato proprio quel tauser che stavo dicendo prima. Ditemi nei commenti se è buono, come lo scorso video. Mi dovete dire nei commenti se quello che trovo è buono, perché... Uh! Uh! Bardock Questo l'avevo visto... Non mi ricordo in che banner era, però mi ricordo che era tipo un... Un... Un buddy Nel banner Non... Non è troppo vecchio, attenzione, abbiamo Vegeta intanto, eh? Oh sì, l'avete sentito, spero. Eh sì che l'avete sentito. Gis Android 19 Goku Un altro Goku E effettivamente un altro Goku Ma non credo sia stato quello... Il Vegito, suppongo Radish Magetta Android 16 E supponevo bene Supponevo benissimo, raga Supponevo Uoey Uoey Ma che è sta multi? Cos? Lui è bellissimo, eh Raga, lui è bellissimo, ma Cosa? Cos'è sta multi? Bellissima Oh, raga Io sto conno lo conoscevo E come al solito Ditemi voi nei commenti Bellissimo Ma che è sta multi, raga? What the fuck? What the fuck? Continuiamo Abbiamo le ultime 100 Dragonstone da tirare Più la free Raga Oh mio Dio Trunks è mai Di nuovo Come prima Trunks è mai Un'altra volta Portaci l'unità Banner Dai Bye guys Doppio crack C'è Doppio crack Dai Credo Ah Goku God Ah Goku God Peccato Peccato Però va bene Goku God va bene comunque Paracas Continuiamo perché non è finita Ovvio Credo Goku A Cell Ve l'ho detto che non era finita O sbaglio Ottimo Ottimo Purtroppo probabilmente adesso è finita Krillin con i capelli Non Non conosco Non so se sia buono Raga Pure questa Signora multi Una signora Multi Questo Krillin Non so se sia buono Voi mi dovete dire Ogni singola unità che trovo Alla fine In i commenti Raga Comunque Dici poco Multi Gratis Vai Partiamo Ok Vegeta Peccato Super Saiyan 3 Classico Normale Mi sa che questa multi È totale Shaft Nail Chaotsu Androide 16 Dowser Yamcha Goku Frieza Cell Gis E per l'appunto Ribrian Vabbè Dai Sto Ribrian Non ce l'avevo E ci sta anche Guardando Le scorse Due multi Che sono state Delle bombe Io direi di fare Quest'ultima qua Perché poi Non ho più Dragon Stones E vedrò Se off camera Finire il giro Vedrò Mi baserò Anche sui vostri Consigli Oddio Spero di Trovarlo qua Vai Partiamo Un po' di gente Direi Mi sa Che non significava Letteralmente Nulla Yamcha Yamcha Bujin Cooler Bulldo Kale SSR Yamu Barter Janemba Janemba Gohan E purtroppo Nulla Peccato E' andata Sicuramente bene Sicuramente Andata bene Facciamo un piccolo Recap Perché ho anche Già fatto un po' Di pulizia Ci sono Mene SR Cioè tranne Quelle che abbiamo Appena fatto Le summon Andiamo sulle SSR E il bottino Di oggi E' Carino Devo dire Perché abbiamo Un Goku Questo qua Ad ability 1 Che direi Che è buono Inoltre L'FPF Già ce l'avevo Ed è Già un doppione Guardiamo Per benino Altre unità Questo Gohan Qua Che potrebbe essere Interessante Mi dovete dire voi Ovviamente Vabbè Il culerone E dopodiché Abbiamo trovato Questo Tauser Che in realtà Potrebbe Potrebbe Far qualcosina Raga Questo E il mio box Si sta ingrandendo Di un bel po' Perché L'SR Cerco di darle via L'SSR Sono abbastanza Anche le UR Le prime LR Alla fine che ho Si sta ingrandendo Raga Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate il like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Con un prossimo video L'iscrivetevi al canale Mi volta Grazie a tutti.